Ben tornato a casa, tesoro. Ora ti sei messo a leggere? Che roba è? Documenti riservati. Vengo insieme a te. No, mi dispiace. Non sei stato invitato. Ehi, che ci fai tu qui? Ho un problemino e mi serve il tuo aiuto. Dagli amici che ho. Lui è il tizio nuovo? È il nostro cecchino. Non ti preoccupare. Questo mirino è graduato. Occhio di fatto. Ricorda questa faccia. Non mi sparare. I terroristi si sono impadroniti di missili nucleari su una nave cargo. Se li lanceranno, ci sarà la terza guerra mondiale. Per riparo! Avete scelto questa vita prima degli amici. E prima della famiglia. Facciamo un po' di casino. Si vola, baby! Su, fatti sotto! E' di questo che parlo. Quello è il più grande che hai. E' molto più grande di così. Qui ci! Vi some呀! ladiesTA like a che ho fatto. sarà a o